Quante pietre si incontrano nei dintorni di certe città antiche, i regni che facevano paura sono tramontati, le civiltà più raffinate sono scomparse, si possono cercare tante scuse sia materiali che umane, terremoti, inondazioni, guerre, incendi, degrado morale, una cosa però è evidente, tutto quello che abbiamo costruito o costruiamo ha scritto nel suo DNA la parola fine, Gesù guardando il tempio, la città dirà non resterà pietra su pietra che non venga distrutta, questo nostro mondo non è definitivo, in questa terra noi siamo ospiti, i titoli in borsa non li portiamo con noi, i nostri soldi, le nostre case, i nostri campi, le nostre reti, le nostre televisioni, le nostre creazioni, anche artistiche non sono eterne, siamo su questa terra da pellegrini e non è detto che il passaggio del testimone da una generazione all'altra conservi di più, l'unico che rimane è Dio e in Lui le nostre vite, nemmeno un capello del vostro capo perirà, le braccia di Dio non sono né di pietra né di cemento armato né di qualsiasi lega perfetta, sono di amore, una realtà che non finirà mai. Ci facciamo spesso domande sul futuro della terra, dell'universo, della vita, del mondo che sarà di noi, come continuerà a vivere questo mondo con lo scempio che ne stiamo facendo, che ci sarà alla fine della nostra esistenza. I primi cristiani credevano che dopo la venuta di Cristo fosse stata detta l'ultima vera parola e che quindi il mondo avrebbe potuto finire, sarebbe potuto finire. Gesù viveva in questa cultura ma continuamente alzava gli uomini a vette più alte, a tempi più lunghi, più larghi, soprattutto all'atteggiamento da avere nei confronti del futuro. Attesa, vigilanza, occhio limpido, speranza. Non è nelle nostre possibilità sapere giorno e ore, ma nella nostra esistenza e coscienza deve vivere un'attesa operosa del Signore che verrà. Una verità cristiana indiscussa è che Gesù alla fine dei tempi tornerà su questa terra e i primi cristiani continuavano a invocarlo. Vieni Signore Gesù. Non era voglia di farla finita, non era desiderio di fuggire dalle difficoltà dell'esistenza, ma orientamento di tutta la storia a Dio al fine ultimo e al compimento. Ecco, vivere significa essere pellegrini verso una meta e occorre sempre averla davanti per correggere la direzione del cammino, per dare slancio e forza, per superare le fatiche, per motivare la solidarietà di tutti coloro che sono incamminati. Una qualità che non bisogna mai perdere è quella dell'ascolto vigile, dell'attesa, del riferimento al futuro e non del ritorno al passato. Dio ci sta davanti e noi ci prepariamo all'incontro con Lui, siamo come in una corsa verso un traguardo che esige un colpo di reni. La vita è sempre così, non ci si può adesare mai. È così per il lavoro, è così per la famiglia, è così la vita di coppia. Spesso roviniamo le cose più belle della vita perché crediamo di possederle, invece vanno sempre accolte come dono e servite con generosità.